Tre furgoni modello Ducato sono stati rubati nei giorni tra il 4 e il 6 settembre e questa è la nota riservata firmata dalla Questura di Milano e dal Questore Marcello Cardona che rilancia l'allarme terrorismo in Italia dopo gli ultimi attentati compiuti con van o camioncini. I furgoni rubati che ora si cercano in tutto il paese hanno il logo della DHL, la ditta di spedizioni internazionali e sono tra i mezzi indicati come a rischio dai nostri 007. Come riporta il messaggero nel documento con cui il Questore ha attivato l'antiterrorismo sono anche citati i numeri di targa e le informazioni che l'azienda ha fornito alla Polizia di Stato in linea con quanto richiesto dal prefetto Franco Gabrielli nella circolare in cui sollecitava la massima attenzione su furti, affitti e acquisti di mezzi di trasporto considerati a rischio. Essendo dei mezzi inseriti nella break-list, aggiunge il Questore, vanno allertati subito gli equipaggi dipendenti nell'ambito dell'attività di controllo del territorio e va segnalata l'eventuale presenza procedendo all'identificazione del conducente e degli eventuali passeggeri, utilizzando tutti i dispositivi di autotutela. Perché proprio l'affitto o il furto di van recentemente utilizzati negli attentati di Barcellona sono tra le situazioni considerate più a rischio dalla circolare del capo della Polizia dopo la strage sulla Rambla. Non a caso nei giorni scorsi, da nord a sud, erano stati controllati dalla Polizia ben 27.000 furgoni in tre giorni, 24 ore dopo la scomparsa nel nulla dei tre Ducato. Così il Questore di Milano ha subito avvisato Digos, Carabinieri e Guardia di Finanza affinché innalzino il livello di allerta.